Finora le aspettative sono state ampiamente deluse, adesso non resta che sperare in un girone di ritorno di qualità per ACI Sant'Antonio e Real ACI. Nel girone C di promozione, dopo che nella prima parte della stagione Biancazzurri e Granata hanno reso meno rispetto alle aspettative estive. Il 2015 inizierà con una gara significativa e complicata al tempo stesso per l'ACI Sant'Antonio di Lucio Tosto, che al Comunale in via Marchesana domenica riceverà la spadaforese quarta forza del campionato. Per riagganciare il treno del quinto posto in casa bisognerà da adesso in poi sempre o quasi fare bottino pieno. E lo stesso discorso vale anche per il Real ACI di Nino Marchetti, che dopo il corposo via vai di giocatori a dicembre deve intanto ritrovare equilibrio. A quale punto del lavoro sia arrivato Nino Marchetti lo si vedrà sabato al Vecchio Comunale, quando al cospetto dei Granata ci sarà il Torregrotta.